Si muove anche la Cremonese ragazzi, si muove anche la Cremonese, acquistato in prestito secco dalla Samp Doria Alex Ferrari, difensore centrale. Quindi la Samp decide di privarsi del difensore che a quanto pare non giocava neanche tanto, la Samp anche se qualche presenza se non mi ricordo male l'ha fatta, e va a proda alla Cremonese. Ragazzi, piccolo shorts di questa piccola ufficialità di calcio mercato, ne ha parlato Schira, ne ha parlato anche Gioca di Marzio, quindi sembra che sia fatta questa operazione qui. Vi auguro ancora auguri di buon anno, perché a me manca veramente poco, manca comunque un po' di ore, ma ci siamo quasi. Gli auguri ve li faccio qua, ma gli auguri ve li farò anche tramite post in community, poi alla mezzanotte spaccata spaccata. Vi voglio bene!